buongiorno signori allora siamo qua su monopoli apri vostri regali e la carta dorata 5 ringrazio lord lyon perché mancava questa carta non completo il set ma grazie mille perché mi hai donato una carta dorata che non avevo quindi veramente grazie di cuore che le dorate sono veramente importanti allora mancano due ore alla fine dell'evento l'ho giocato un po da solo intanto siamo arrivati quarti e appunto mi mancano tre monetine poco più qua carta 5 nuova e anche l'emoji carina e quindi andiamo a giocare allora devo prendere il torneo per prendere il per mille e poi devo prendere le monete non so se utilizzerò il bug perché non so se lo utilizzerò insomma anche perché il tempo non è tantissimo cinque minuti dovrei prendere tre monete utilizzare il bug non è facilissimo ottenerle quindi forse farò qualche tiro a per mille senza bug magari appena ottengo i cinque minuti tolgo subito internet così da resettarli pure nel caso quindi vediamo dovrei ottenerle alla prossima anche perché questa mi è andata bene però non dovrei prenderli subito e invece ho preso il subito ragazzi via internet pensavo non fossero così presto sperando che non si tolga la connessione vado effettuare i tiri a per mille e mi conto i tiri 7 7 7 mi ha dato vado il reset ovviamente ok ragazzi in realtà con doppio sette ci faccio ben poco quindi oltretutto me l'ha contato il per mille e si tre minuti tre minuti ok allora vediamo un attimino tiriamo così 11 e il 7 mi garantisce la moneta incredibile ma vero quindi la prima l'abbiamo presa provo a baggare di nuovo ecco mi è andata male vediamo se me lo dà col prossimo tiro ok me l'ha presa quindi attivo internet e mi sa che devo riavviare eh sì ragazzi riavvio no mi è andato a questo punto farei il giro completo posso giocarmela anche a per cento visto che comunque sia una monettina a cento dove devo prenderla qua ce ne sono tante ragazzi me la rischio ovviamente tolgo internet che ok l'abbiamo presa quindi ok per mille non ci serve dai ce l'ho internet dai gioco no non voglio comprare madonna santa vabbè comunque ce l'abbiamo fatta intanto ritiro anche il premio visto che ci sono ci facciamo le quest giornaliere ok allora devo prendere un'altra monetina per cento ma a parte che potrei giocare anche per duecento ma no ora gioco ma sia per duecento magari mi dà qualche stazione eccola infatti potrebbe capitare anche una rapina eh allora la prossima moneta ce l'abbiamo e quindi finiamo l'evento cerchiamo di fare ok buono cerchiamo di fare qualche qualche rapina visto che abbiamo un moltiplicatore a per duecento ci facciamo un po di punti un po di dadi un po di adesivi magari vi faccio vedere anche l'album così vi fate un po un'idea di cosa mi manca che la faccio anch'io visto che non apro quasi mai l'album carte nuove a tre stelle e non completo nulla cosa mi manca qua mi manca una carta a tre una carta a quattro qua stessa cosa e poi da qua iniziano carte esatto carte a cinque va bene va bene va bene baule come siamo messi manca poco allora regalo gli adesivi se qualcuno me li ha chiesti ok una carta a due allora ragazzi gli adesivi dovete richiedermeli qui quindi non chiedetemi nei commenti poi vabbè se volete anche dirmi nei commenti se volete scambiare qualcosa va benissimo però di base me li mandate lì così ve li dono tranquillamente e basta ok altra stazione dammi una rapina niente da fare vabbè gioco un po con voi intanto anche perché mi manca la monetina le quest in realtà migliorare gli edifici purtroppo non ho giocato un giorno quindi non prenderò mai il jolly purtroppo e va bene queste le faccio comunque dai migliorare gli edifici posso farlo miglioro lo stesso tanto poi mi attaccate mi devastate i soldi ovviamente non bastano per completare il tabellone arriva su probabilità una volta ok faccio anche quella e poi devono anche aprire il forzieri in realtà comunque il jolly non dispero che non lo tengo anche perché non credo assolutamente di finire il secondo album l'ho preso subito moneta finiamo scherzavo ci manca un punto e continuare per 200 perché secondo me c'è la rapina tra poco poi cerco di prendere anche la monetina sempre se non me la prende per 200 bel 7 no 8 vabbè apriamo il forziere intanto allora è da un po che non mi fa vincere quindi vediamo come va beh diciamo che poteva andare peggio probabilmente sì vabbè qua offerte di soldi prendo i dadi 10 dadi utilissimi nel mio caso beh c'è gente che in realtà ci ci vive con quei 100 dadi abbiamo preso anche l'ultima 6500 dadi rifatti che in realtà non è che abbia avuto un grosso guadagno visto che niente carta ecco se vi serve la carta 5 lascio doppia e niente vorrei prendere prima di staccare una rapina in banca quindi andiamo in cerca niente scudi e tassa e dammi la stazione 5 non mi vuole dare la stazione moneta adesso non mi servono assolutamente a niente 11 altra moneta non mi serve a niente però secondo me potevano potevano inventare che magari finito tutto il girone no delle missioni visto che poi comunque le monete rimangono comunque sia e anche tutte le altre quelle delle stazioni dei lati del tabellone oppure delle tasse potevano mettere che magari prendere monete o qualcosina vi garantiva non lo so dei dadi extra perché sarebbe stata interessante interessante qua ragazzi ho preso stazioni infinite volevo prendere una rapina a quanto fa non me la vuole dare ma io sono ostinato adesso tiro finché non mi da una rapina a parte che le distruzioni comunque mi sono andate discretamente bene visto che solo uno aveva gli scudi tutte le altre ne ho fatte 5 mi sembra sono andate bene 4 12 penso me la dia al cento per cento adesso la la rapina qua cosa abbiamo niente mi segnava che c'era qualcosa da prendere per piacere gioco mega rapina oltretutto molto bene la faccio veloce madonna santa però che sfortuna incredibile fatta veloce perché c'era il bonus degli adesivi mi sa che mi sa che l'abbiamo perso il pacchettino mi sa che non mi dà esatto però carta dorata nuova ragazzi io vi saluto qua anche per questioni di tempo da fare vi ringrazio per la visione spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando like iscrizione obbligatoria e ci vediamo alla prossima ciao